D'accordo, ma fai silenzio. I titani non sono l'unica cosa di cui preoccuparci. Pare che qui vivano alcuni selvaggi troltali a testa, che adorano i titani e sono pronti a eseguire ogni loro ordine, fino alla morte. Hai ragione, è terribile. Dove pensi che lo tendano l'occhio dagli antichi, nella jacuzzi o nei bungalow? Dove pensi che lo tendano l'occhio. Dove pensi che lo tendano l'occhio. Dove pensi che lo tendano l'occhio.